Accendi! Qua! Ci hanno spiegato come si montano le tende per il primo soccorso abbiamo notato che è abbastanza semplice e veloce Qual è l'attività che ti ha interessato di più? Ma più che altro è come le tende, come vengono montate, come sono all'interno, come vengono allestite per poi poter far entrare la gente Allestire un campo di accoglienza, spegnere un incendio, aspirare l'acqua di un allagamento gli uomini della protezione civile hanno messo a disposizione dei più giovani le loro competenze acquisite con anni di esperienza sul campo A cimentarsi con il ruolo di volontario di protezione civile è stato un gruppo di studenti del triennio dell'ISI Marconi nell'ambito della settimana della flessibilità È meglio standardizzare al massimo le operazioni da fare seguire una procedura, seguire sempre quella procedura Abbiamo spiegato in prima cosa le sicurezze perché bisogna sempre operare in sicurezza in quanto noi quando diamo sulle emergenze dobbiamo cercare di risolvere le situazioni e non di aggravarla Secondariamente abbiamo diviso i ragazzi in tre squadre Come sono stati questi ragazzi? Molto attenti, ho visto interessati, ho visto che si sono appassionati hanno capito bene cosa è la protezione civile e soprattutto cosa serve nelle gravi emergenze L'attività proseguirà venerdì con la simulazione della ricerca di un disperso al Parco della Galleana